Sul pannello principale del pannello annotazioni per attivare la linea singola a squadra del testo nell'area di lavoro, disegno e annotazione. Specificare il punto iniziale del testo sulla riga di comando, inserire il valore numerico dell'altezza, secondo angolo di rotazione nella linea di comando. Il cursore sullo stage è immettere i caratteri dalla tastiera. Quando si inserisce un testo su più righe indicano il primo e il secondo angolo. Impostare l'altezza del testo per specificare la dimensione tipo caratteri dalla tastiera alla barra editor di testo. Selezionare testo del pulsante destro del mouse per causare il menu a discesa e attivare il comando proprietà. Le proprietà specificano l'altezza della finestra di dialogo. Grazie. 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 Grazie.